la mia air care routine passo dopo passo adesso te la spiego partiamo dal pre shampoo io amo tantissimo fare le maschere pre shampoo quindi ovviamente faccio una maschera al cuoio capelluto che sia un po più purificante perché io ho il cuoio capelluto grasso ahimè e quando mi ricordo io in questo momento vi parlo della routine completa però sappiate che tante volte o non ho voglia o non la faccio proprio completissima però io in questo video vi voglio dire ovviamente la completa quindi nelle lunghezze quando faccio la brava mi metto una bella o maschera nutriente oppure un bel impacco con l'olio però di solito uso le maschere poi di solito seguo diciamo il minimo tempo della confezione che di solito sono sui 15 20 minuti ma di solito cerco di tenerla il più possibile e mentre c'è questa cosa in atto io cosa faccio metto in ammollo la spazzola a pulirsi perché ragazze se voi pulite i capelli vi lavate i capelli ma poi avete la spazzola che usate tutti i giorni sporca capite anche voi che non ha tanto senso quindi io prendo un bel piattino adibito unicamente a questa funzione proprio ce l'ho in bagno lo riempio con un po di sapone acqua calda e ci metto dentro dopo aver tolto tutti i vari capelli rimasti la spazzola per un po di tempo il tempo siccome è relativo almeno 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 10 minuti proprio per star bassi ma di solito la tengo tutto il tempo che appunto ho le maschere poi appunto prendo la spazzola io do una sciacquata bella veloce e poi la lascio un po asciugare tanto poi dopo andrò coi capelli bagnati poi cosa faccio vado in doccia e in doccia faccio sempre due lavaggi di shampoo un po come dal parrucchiere perché se ci fate caso il parrucchiere vi va sempre due shampoo non ne fa solo uno dipende un po dal periodo dipende da come sento i capelli dipende da tante cose ma io solitamente faccio o uno scrub quindi uno shampoo che sia anche con dello scrub poi uno shampoo normale purificante quello che è oppure due volte lo stesso shampoo anche su quello non ho problemi a volte uso uno shampoo magari un po più che tiene il colore visto che adesso mi sto facendo un po più scura diciamo che l'importante però della cosa è che siano due shampoo punto poi qual è un po relativo poi ovviamente metto una maschera un balsamo in posa veramente il giusto perché io mi stanco di stare con le cose in posa quindi o mentre ho le cose le maschere appunto il balsamo in posa mi metto a lavarmi mi depilo faccio cose e poi appena basta mi sciacquo tutto e basta infatti motivo per cui io faccio le maschere prima così sono sicura di idratarli una volta finito tutto questa bambaradam mi strizzo i capelli e me li metto dentro un turbante fatto apposto oppure un asciugamano questa cosa mi aiuta tantissimo a togliere tanta 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 di quell'acqua in più dai miei capelli so che c'è chi è contro so che c'è chi lo ama questo metodo io personalmente mi trovo molto meglio così anche perché non me le asciugo mai subito i capelli aspetto un po perché non c'ho voglia quindi rimando dopo che appunto torno che ho voglia di prendere l'iniziativa e asciugarmi i capelli mi tolgo il turbante e la cosa che faccio è pettinarmi i capelli da bagnati sì da bagnati perché io non ho mai avuto problematiche su questo anche qui so che c'è chi è contro perché dicono che si spezzano a me personalmente sarà che ho dei capelli per fortuna fortunati almeno quello non ho particolari problemi ad appettinarli appunto da bagnati e una volta appettinati tutti io metto un siero in cute e un termoprotettore il siero in cute può essere purificante nella maggior parte dei casi oppure un siero idratante che comunque mi lenisce il cuoio capelluto poi una volta fatto tutto questo inizio ad asciugarli e non le asciugo mai fino alla fine perché mi scoccio tantissimo io mi scoccio starli le ore e quindi faccio molti momenti di pausa me li asciugo un po poi pausa me li asciugo un po poi pausa che tra l'altro ho scoperto che è super positivo perché in questo modo il capello non è troppo aggredito dal calore perché facendo più step il calore meno e quindi ne risente meno poi non so se è una cavolata ma io ho seduto così e a me va bene saper così una volta asciugati il tutto quando sono brava e mi ricordo mi pettino di nuovo i capelli io sappiate che non faccio mai piega niente perché i capelli così lisci come spaghetti questo momento vabbè sono un po scombinati ma io ce li ho così di natura quindi non faccio mai piega niente perché non c'ho voglia se non si fosse capito e appunto termino con un olio capelli oppure una crema disciplinante apposta ma di solito con l'olio ovviamente solo nelle lunghezze pochissimo perché se no mi si ungono tanto e basta questa è la mia routine completa fatemi sapere cosa ne pensate se per voi dovrei incrementare o sostituire qualche passaggio ovviamente non vi consiglio di usare gli sieri purificanti eccetera scrub tutte le volte perché potreste aggredire troppo il cuoio capelluto perché anche a me è successo quindi vi do questo consiglio mi raccomando fatemi sapere anche la vostra routine capelli perché sono troppo curiosa e se avete qualche tips da darmi e anche qualche prodotto da consigliare tra quelli che vi ho detto perché no e se volete sapere più nel dettaglio qualche prodotto che uso vabbè già nel profilo ci sono tantissimi video però magari me ne faccio alcuni dedicati a questo